Lunedì 25 giugno in primo piano nel TGL News, purtroppo le brutte notizie che sono arrivate nel tardo pomeriggio di ieri perché è morto un 79enne a San Nazaro di Piozzano lungo la strada del passo della Caldarola, la vettura su cui viaggiava per cause ancora da chiarire si è ribaltate, purtroppo per il 79enne non c'è stato nulla da fare. Parliamo dell'ospedale nuovo di Piacenza che interesserà naturalmente tutta la provincia, oggi passaggio decisivo in consiglio comunale proprio a Piacenza dove continua la discussione già aperta su questo delicatissimo argomento, a quanto pare il centro-destra, la giunta e i consiglieri di maggioranza stralceranno la pertite probabilmente anche la Lusignani dai progetti possibili, si va verso dunque l'individuazione di un'area privata, sappiamo anche che il Comune ha annunciato di voler promulgare un bando proprio per ricevere le manifestazioni di interesse dei privati, contemporaneamente invece è partita una raccolta di una sottoscrizione di firme online da parte del Comitato che vuole il nuovo ospedale e identifica proprio nella ex pertite l'area più adatta, stesso discorso con sfumature un po' differenti anche per il Partito Democratico e altre forze in consiglio comunale, la maggioranza però in mano a coloro che non vogliono l'ospedale alla pertite. Parliamo ancora di cronaca perché sono stati numerosi gli episodi nel fine settimana, una ventenne arrestata perché è sorpresa spacciare davanti a una scuola, in Viale Dante i finti tecnici ancora in azione, svuotata la cassaforte di un anziano compresa anche una pistola e poi un ladro maldestro che ha rubato un paio di scarpe, ha tentato la fuga in un negozio ma è inciampato ed è stato bloccato dalla sicurezza. Chiudiamo con lo sport, Giorgia Bronzini è arrivata terza ai campionati italiani su strada di ciclismo ieri, oggi potrebbe essere un giorno importante per il futuro del Propriacenza, pare ci siano due cordate disposte a rilevare la società dal patrono, il presidente Alberto Burzoni che ha deciso di fare un passo indietro però tutto è ancora da definire. Tutto questo e molto altro nel TGL delle 13 e 15 e ovviamente sul nostro sito www.liberta.it Grazie a tutti.